Terapia, terapia, terapia. Mercoledì 12 ottobre, atteso appuntamento con l'inaugurazione della stagione di prosa del teatro Morlacchi, che quest'anno si apre con qualcuno volò sul Lido de Cuculo, diretto da Alessandro Gasman. Lo spettacolo sarà a Perugia fino a domenica 16 ottobre, da mercoledì a venerdì alle 21, sabato alle 18 e domenica alle 17. Una messiscena elegante e contemporanea, appassionata, commovente e divertente, imperdibile per l'estetica dirompente e per la forte carica emotiva e sociale con un cast di attori straordinario. Un testo che è una lezione di impegno civile, uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione e imposizione adottati all'interno dei manicomi, ma anche e soprattutto una straordinaria metafora sul rapporto tra individuo e potere costituito, sui meccanismi repressivi delle società, sul condizionamento dell'uomo da parte di altri uomini, un grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa riflettere. La trovo bene signor Danese, mi pare che la terapia adottata non sia riuscita a calmare. Devo dire la verità.